Signori, collezioni! Quante collezioni sono presenti nello sconfinato universo dei TCG? Pressoché infinite. One Piece, Magic, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh! A volte sembra davvero impossibile potersi avvicinare a questo mondo senza spendere un patrimonio. Ma non è del tutto esatto. Perciò ho fatto un accesso alla biblioteca, dove ho trovato un qualcosa che farà il caso di ogni curioso che vorrà muovere i primi passi in questa branca dei GCC. Benvenuti quindi in un nuovo appuntamento della rubrica Colleziono da Zero. In questo episodio ho preso dagli scaffali un tomo molto interessante che vedrà la mia famiglia, quella degli arconti, esserne protagonista. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. L'intera collezione conterrà ben 20 elementi, se intesa come raccolta in formato standard. Mentre se desidererete recuperare anche le versioni pre-release e serializzate, allora il numero totale aumenterà fino a raggiungere le 28 unità. Tra le loro fila saranno presenti infatti anche le versioni della Sentinella Silente, l'Arconte Celestiale, Diemeria, della Grazia Solare, Armonioso, Celeste, della Crudeltà e del Triunvirato, questi con le rispettive date che andranno ad indicare i pre-release dove sono stati rilasciati e l'Arconte Sfavillante serializzato X su 500. Ovviamente non dovrete recuperarli tutti con rispettive versioni disponibili, altrimenti dovremmo includerci anche le corrispettive più recenti con stile proprio e quant'altro, calcolando anche che solo la numerata avrà un valore che si aggirerà attorno al centinaio di euro. Con ben 14 carte bianche, 2 nere e le restanti 4 multicolore, quindi avrete a disposizione un esercito di creature mitiche sotto il vostro controllo, che occuperanno, con eleganza e maestosità, le pagine del vostro album personale. In descrizione vi lascerò tutti i link che vi riporteranno alle singole pagine web dedicate alle carte di questa collezione, che vedrà un costo che si aggirerà attorno ai 23 euro per poter essere completata. Bene, credo che tornerò a sfogliare qualche tomo in biblioteca, andando alla ricerca di nuove raccolte adatte a chi vuole iniziare il viaggio in questo fantastico mondo. Di sicuro riuscirò a trovare qualcosa di interessante che stuzzicherà sia la mia che la vostra attenzione. Beh, io vado, ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena avrò scoperto qualcosa di interessante da mostrarvi. A presto!